Ciao a tutti, buon primo dicembre! Non potevo non iniziare questo mese con il video idee regalo perché appunto a dicembre le occasioni per farsi regali non mancano c'è Natale, per chi è del nord come me c'è Santa Lucia poi ci sono un sacco di compleanni a dicembre non so perché ma tantissima gente compie gli anni a dicembre anche qualcuno che conoscete molto bene vi dico subito che ho scelto regali un po' per tutte le tasche ci saranno idee regalo sotto i 15 euro, sopra i 20 euro, sopra i 50 euro, sopra i 100 euro insomma regali per tutti i gusti e tutti i portafogli lasciate un bel pollice in su se volete più video tema natalizio sul mio canale in questo mese e se non siete iscritti mi raccomando iscrivetevi al mio canale cliccate su un bottoncino rosso come la mia maglietta per non perdervi tutti i nuovi video in particolare ho visto che da Lossitan hanno un sacco di idee regalo per Natale che costano veramente poco iniziamo con la cosa che costa di meno in assoluto è la candela solidale che ha fatto Lossitan a favore di Unicef è praticamente una candela profumatissima vi assicuro che fa profumare tutta la stanza anche la box è molto carina con le stelline e la luna perché l'ha disegnata la casa di moda Castel Bayac Paris e quindi se volete fare un regalino carino e allo stesso tempo fare del bene 7 euro avete una candela e poi rimane anche la scatolina in alluminio che è sempre utile a 10 euro ci sono i crackers che vanno tantissimo di moda quest'anno li vedo ovunque e mi piacciono perché appunto c'è la confezione a caramella che è sempre bella da ricevere e all'interno ogni cracker ha prodotti diversi uno dei miei preferiti è quello blu che ha dentro lo spray rilassante da spruzzare sul cuscino prima di andare a letto e la crema a mani oppure sempre diciamo sotto i 15 euro a 12,50 euro ci sono queste bull questa stella da appendere all'albero sempre con dentro dei prodottini ad esempio questa rossa all'interno ha il latte corpo, la crema a mani il gel doccia, ha i fiori di ciliegio quindi super profumati mi raccomando se spendete più di 15 euro inserite sul sito il codice BOX1 così avrete anche un altro regalo una box con dentro due prodottini ma soprattutto questa collana carinissima con la stellina super natalizia quindi avete un altro regalo in omaggio un altro sito dove ho un codice sconto speciale è come sapete Daniel Wellington ci sono i gift set natalizi che sono bellissimi sono dei set con l'orologio e il cinturino intercambiabile sono veramente tantissimi modelli, cinturini di tessuto, cinturini di pelle potete vedere un sacco di mix e tutti i gift set sono scontati per Natale del 10% e oltre questo 10% se mettete il mio codice sconto SPINK avete il 15% quindi praticamente potete averli scontati del 25% yeee ce l'ho fatta a fare questo calcolo semplicissimo oppure potete usare comunque il mio codice sconto su qualsiasi cosa del sito ad esempio per l'orologio questo oro rosa con il bracciale hanno fatto questi bracciali rigidi che mi piacciono tantissimo budget un po' più grande, ora torniamo su budget piccolo abbiamo questo set di pennelli Cosmify stupendo, bellissimo allora innanzitutto la pochette è nera e oro rosa è proprio la mia, bellissima e poi guardate quanto è figa questa cosa praticamente c'è la placca magnetica e i vari pennelli praticamente sono magnetici cioè rimangono attaccati alla placca così stanno in piedi, si vedono tutti è super comoda se dovete farvi un set per farvi il trucco occhi qua c'è tutto questo set con tutta la pochette costa 24,90€ e si può comprare solo sul sito Cosmify tramite il link nell'info box se avete visto il mio ultimo spacchettiamo c'erano un sacco di idee carine per Natale se avete un'amica che ama farsi bagno nella vasca un'idea super carina è la tazza con dentro le stelle da bagno effervescenti sono tutte delle stelline che dentro la vasca poi si sciolgono e in più rimane la tazza con il gufo che quindi ogni volta che insomma la mattina berrà il tè o il caffè penserà a voi parlando di regaloni belli insomma importanti un regalo veramente super è il Clarisonic sapete l'ho rimesso nella scatola ma in realtà l'ho usato poco fa quindi non è pulitissimo e ve l'ho fatto vedere nel video mi trucco mi strucco col Clarisonic perché praticamente c'è la possibilità se volete di attaccare anche la testina make up e quindi addirittura diventa un pennello da trucco anche di questo vi lascio il link per l'acquisto nell'info box sui regali da uomo alle volte si ha un po' più di difficoltà e quindi voglio farvi vedere questa confezione di L'Oreal Man Expert che è fatta apposta se appunto dovete fare un regalo a un uomo che ama avere una barba bella curata e tra l'altro parte del ricavato va a supportare la fondazione Movember che è una fondazione per le malattie maschili c'è il gel idratante per barba corta il detergente barba viso capelli l'olio viso e barba lunga tre prodotti che sicuramente possono far piacere a diciamo un uomo che ama curare la propria barba che sia corta o lunga un altro regalo stupendo che potete fare rimanendo intorno ai 20 euro sono gli standard lip paint di Fenty Beauty questa è la confezione con tutti e quattro e costano circa 22 euro l'uno direi che per un'amica è un regalo carinissimo ci sono quattro tonalità questo è veramente un regalo per Beauty Addicted regalone super particolare dovreste fare un regalo di Natale un po' anticipato è il calendario dell'avvento Beauty ad esempio questo è quello di Look Fantastic ed è un calendario dell'avvento pieno di prodotti di praticamente tutte le marche vi metto il link in info box anche di questo che vi assicuro pesa 80 kg quindi immagino sia molto molto ricco altro regalo perfetto per le Beauty Addicted sono i quattro rossetti di Anastasia Beverly Hills i rossetti matte uscendo un attimo dal mondo beauty un altro regalo carino che secondo me può piacere un po' a tutte le ragazze è la borsettina La Pochette e questa ad esempio l'ho presa da Mango costava sui 34 euro mi sembra è una borsetta super pratica si può usare sia tra colla che insomma a mano io adoro le pochettine e quindi insomma a me sarebbe piaciuto riceverla per regalo e quindi le inserisco anche questa nell'idea regalo ecco queste sono le mie 10 idee regalo per tutte le tasche, per tutti i gusti spero tanto che questo video vi sia piaciuto fatemi sapere nei commenti quali sono i regali che vi sono piaciuti di più di questo video così magari li inserirò in un pacco speciale giveaway natalizio se volete più video Teva Natale sul mio canale mi raccomando lasciate un pollice in su noi ci vediamo prestissimo con un nuovo video e vi auguro una bellissima giornata o serata, dipende quando vedete questo video quando lo state vedendo ciao